Eccoci, eccoci, con un sacco di novità, la spiegazione di quello che già abbiamo, in maniera che lo possa capire anche chi non è commercialista e chi non è avvocato. Può capirlo, basta leggerlo e studiarlo, ok? Oggi affrontiamo le istruzioni e la dichiarazione dei redditi, ok? Ogni anno i contribuenti devono predisporre la dichiarazione dei redditi, ossia dichiarare i redditi percepiti, nel caso delle criptomonete, potenzialmente generatori di redditi imponibili. Lo vediamo, non è che esiste una legge per ogni reddito, ok? Le dichiarazioni fiscali sono divise in quadri. Ci sono i redditi derivanti dai terreni, i redditi derivanti dai fabbricati, i redditi derivanti da pensione. I redditi derivanti dal lavoro dipendente, i redditi derivanti dal lavoro autonomo, i redditi derivanti dalla partecipazione societaria, i redditi derivanti dal capitale e i redditi diversi. L'agenzia delle entrate ogni anno ci fornisce quelle che sono le istruzioni alla dichiarazione. Oggi noi vediamo le istruzioni alla dichiarazione e vediamo l'indicazione e delle valute virtuali. L'agenzia delle entrate ti dice, ti usa la parola valute virtuali in dichiarazione dei redditi. Cerchiamo di capirlo bene insieme in maniera tale che, come ho detto, anche un non commerciante o un non avvocato riesce con esattezza a individuare, cavolo, va fatto. Vediamo innanzitutto dove si trovano queste cose, va bene? Così che si riesce poi a dare la spiegazione di tutto, no? Se voi cliccate su Google e scrivete istruzioni alle dichiarazioni quadro RV o istruzioni alle dichiarazioni dei redditi 2021, vi si apre questa pagina. In questa pagina c'è modello dei redditi persone fisiche, fascicolo 1, perché è diviso in due fascicoli. Nel fascicolo 1 ci sono determinati quadri, nel fascicolo 2 l'altra parte dei quadri. E istruzioni per la compilazione. Cioè abbiamo visto che il modello unico è diviso in tante caselline. Per ogni casellina l'amministrazione finanziaria ti dice in questa casellina ci metti questo a questa condizione, questo a quest'altra condizione, questo a quest'altra condizione. Allora, io per semplificare, sono già entrato prima e le ho già scaricati. Il quadro RW1 lo troviamo qua, a pagina 43 del fascicolo 2. Se voi andate, torniamo a pagina 1 un attimo. Questo è istruzioni per la compilazione. Ti do le istruzioni, perché come voi ben sapete, se non lo sapete ve lo dico io, ogni contribuente può autonomamente compilare la propria dichiarazione. Istruzione alla dichiarazione, andiamo a pagina 43. Vedete, in questa istruzione c'è il quadro RH, RL, RM, eccetera. Allora, ci interessa il modulo RW, investimenti all'estero e o attività estere di natura finanziaria. Andiamo a pagina 43 e cominciamo a vedere le varie cose. Il quadro RW deve essere compilato ai fini del monitoraggio fiscale dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria. Negli interpelli è pacificamente riconosciuto che la detenzione di monete virtuali siano attività estere di natura finanziaria. Voi potete, tramite il link, accedere tutti a scaricare queste cose. Queste cose sono cose di dominio pubblico, ok? Perché è interesse dell'amministrazione che le persone dichiarino i propri redditi ed è interesse del contribuente avere accesso alle informazioni per poterlo dichiarare. Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti, lo seleziono, e delle attività detenute all'estero nel periodo di imposta. Quest'obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo di imposta ha totalmente disinvestito. Quindi io invio 10.000 euro su Kraken, le elevo dopo due mesi, metterò valore iniziale 10.000, valore finale il valore al termine del periodo di detenzione. Non metto zero. Al termine del periodo di detenzione. Lo vedremo dopo perché oggi proprio andiamo ad analizzare punto punto. C'è una parte interessante, il quadro RW non va compilato per attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti. Quindi se voi date ad un trust, ad esempio residente, le vostre monete, in quel caso non si compila per quella parte l'attività detenuta. So perché questa cosa è apparsa molto, no? Ma andiamo avanti, andiamo avanti. A pagina 44 delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2021, non dalle, da chissà quale logica di chissà cosa, dalle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, quindi da fonte regolamentare del diritto, non legge, fonte regolamentare, comunque circolari, prassi, quello che poi l'amministrazione ci dice, attenzione, se quelle cose che sono suscettibili di produrre reddito, reddito di capitale, investimento, in questo momento devi fare questo. Allora, andiamo qua, se i prodotti, mi sono insegnato un po' di punti, se i prodotti qui, in questa altezza, se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestato, attenzione, perché uno dice do metà del mio wallet a mia moglie, attenzione, la giacenza raddoppia, non raddoppia, non sono 50.000 testa, perché se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione e cointestati, l'obbligo di compilazione del quadro RV è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso, quindi se noi abbiamo un wallet cointestato con 50.000, non è che mettiamo 50 a testa, mettiamo 100.000 entrambi con percentuale di possesso diversa, quindi il prelievo da quel wallet, essendo un wallet che ha una giacenza superiore a quella richiesta per l'applicazione della norma, si configura come plusvalenza e si paga l'imposto. Quindi a voglia di inventare strategie, bisogna stare molto attenti, perché si rischia molto, si rischia molto. Andiamo avanti. Qualora il contribuente detenga direttamente un investimento all'estero o attività estere di natura finanziaria, è tenuto a indicarne il valore nel presente quadro, nonché la quota di possesso espressa in percentuale. Qualora il contribuente detenga direttamente, lo detengo direttamente, che significa che lo detengo direttamente? Che lo detengo senza avere questi soldi in un intermediario autorizzato, ho direttamente io il wallet, posso gestirlo direttamente. Basti pensare che si dichiarano anche attività detenute in cassetti di sicurezza, c'è quest'obbligo, c'è quest'obbligo, poi potete anche non fare niente. L'importante è essere consapevoli che c'è quest'obbligo, ok? Qualora il contribuente detenga direttamente l'investimento all'estero, attività estera di natura finanziaria, è tenuto a indicarne il valore nel presente quadro, nonché la quota di possesso espressa in percentuale. E ora veniamo al succo. Veniamo al succo. Noi nel quadro delle W si dichiarano gli investimenti. Che cosa sono gli investimenti? Non è che esiste una legge per gli EPF, esiste una legge per lo stocking, esiste una legge per gli indici, esiste una legge per i derivati, non esiste una legge per ogni cosa che si inventano ogni giorno, perché altrimenti l'investitore fiscale non ci sarebbe. Esiste una macrodisciplina di un settore, di una categoria di reddito, nel quale ricondurre le varie sfaccettature. La legge è, si dice, generale e astratta. Poi si rientra nel caso particolare attraverso le specificazioni della regolamentazione amministrativa. Questo si fa in prima università quando si fa diritto tributario, però ve lo dico anche per chi non è cultore della materia, non esiste una legge per fare lo youtuber, non esiste una legge per dire Amazon FBA, non esiste una legge che ci vuole la partita IVA per il self-publishing, non è che per ogni cosa che le persone si inventano esiste una legge, esiste una categoria di redditi ai quali ricondurre la tassazione. Allora, nel caso delle monete virtuali, siamo nell'ambito degli investimenti. Gli investimenti che cosa sono? Sono i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Attenzione a questo altoparlante che c'è, questa è l'agenzia delle entrate, ti mette nota bene. Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo di imposta. Quindi che cosa significa? Che ho delle monete detenute su delle exchange, non ho percepito niente, quindi non ho generato un reddito imponibile, non ho fatto nascere l'obbligazione tributaria perché non li ho nel mio possesso, sono virtuali. Però, siccome potrebbero potenzialmente produrre dei redditi imponibili, quando è che un reddito è imponibile, quando lo usi per fare la spesa, quando è disponibile, quando è liquido, valuta reale che puoi utilizzare, in questo caso allora è un reddito imponibile, si tassa, finché non è un reddito imponibile, lo si monitora, si dichiara, guarda, io ho questi redditi detenuti all'estero, non li ho presi, ti dico che ce li ho. Questo è quello che vuole la prassi amministrativa, questo è quello che esplicitamente ci sta chiedendo l'Agenzia delle Entrate dal 2019, redditi per il 2018 in poi. E ora lo vedremo perché l'Agenzia delle Entrate cita proprio le valute virtuali, cita proprio le valute virtuali. Ma le cripto non si sa dove sono collocate, ma su questo ci siamo già espressi e si è espressa l'Agenzia delle Entrate. Non si è espresso con l'interpello, l'interpello ha dato delle indicazioni. Questo non è l'interpello, queste sono le istruzioni alla dichiarazione. Questo è, l'Agenzia delle Entrate ci dice, caro contribuente, quest'anno dovrei presentare la dichiarazione dei redditi, ecco le istruzioni per presentarla correttamente, altrimenti io ti sanziono e ne ho il potere, in quanto l'Agenzia delle Entrate è un'autorità indipendente e può fare, ha un procedimento vincolato ovviamente sulla base della legge, ma può fare le sanzioni. Andiamo avanti, sulla pagina successiva, eccoci che arriviamo qui, le attività estere di natura finanziaria. Natura finanziaria, quando in linguaggio giuridico per chi ha studiato diritto si parla di natura, si utilizza la natura per ricollocarci a un determinato specie e a un determinato genus. esiste la natura, sotto la natura c'è lo species, sotto lo species c'è il genus, lo so che sono cose magari un po' noiose, lo so che è faticoso fare l'università, l'ho fatta io al vostro posto, in questo caso, e quindi vi dico in maniera tranquillamente chiarissima perché vi rientrano. Allora, le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano dei redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Quindi, quindi, ora sembro mi banca che faccio talk talk e poi sapete chi sono. Allora, non c'è la legge che dirà la criptovaluta in quello, ci dirà le attività estere di natura finanziaria. Nel momento che il legislatore fiscale qualifica una determinata attività in un determinato species, quel genus che è sotto è ricondotto. Quindi l'attività estera di natura finanziaria è quell'attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro in quanto di per sé, attenzione, produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia. La moneta virtuale è un'attività estera di natura finanziaria ma non lo dico io, lo dice dopo perché ora ci arriviamo e va indicata qui e va indicata con queste istruzioni. C'è un altro punto, non ci sarà mai scritto nello specifico A più B più C perché la norma è generale, ricondusce a determinate species, i vari genus non vengono indicati, ok? Perché altrimenti le istruzioni già sono 300 pagine, sarebbero miliardi di pagine. La completomania e la singola legge per qualsiasi cosa veniva usata nel diritto romano, ok? Il diritto romano si diceva che soffriva di completomania. C'erano delle leggi incise sulle prime tavole romane che dicevano è furto rubare una penna, è furto rubare un sasso, è furto rubare capra, è furto rubare un caso. Cioè praticamente facevano 100 tavole di pietra perché uno diceva no, non ce l'avevi messo che era furto rubare quel prezioso e quindi non è furto. Questa qui si chiamava completomania ed era un difetto della legge romana tant'è che poi la legge romana modifica nel tempo e salta la completomania diceva è furto qualsiasi azione tesa a sottrarre un bene di un'altra persona. Quindi non ha detto le singole species e questo ora io ho fatto un esempio paradossale però questo è il concetto determinata la natura di un determinato oggetto prodotto eccetera e riconducendolo in investimento di natura estera automaticamente si ricade lì. Le attività finanziarie estere questo c'è un altro punto che potrebbe interessarci qua le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti quindi se io ho un'attività estera detenuta sul mio conto Fineco faccio un esempio quello non la devo monitorare perché è un intermediario residente ma se io ho delle attività estere magari detenute in un wallet privato o attività finanziaria estera detenuta in in un exchange italiano ma non considerato quale intermediario iscritto alla Consob e varie cose e sottoposto quindi a vigilanza gli intermediari residenti sono quelli sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza Consob e Banca d'Italia ok? Fuori anche questi vanno monitorati sto dicendo le spiegazioni a favore di tutto poi è logico che ci siano delle lacune normative io ho sempre detto che ci sono delle lacune normative e quindi anche il non dichiarare il possesso delle chiavi private può essere giustificabile con un'incertezza legislativa e in caso di un'incertezza legislativa si appa sempre la norma più favorevole però al di là di questo e poi con ognuno di noi specifichiamo andiamo avanti piccolo punto modalità dichiarativa ossia proprio come si dichiara io direi questo non tanto nei casi di esonero ma nel punto successivo quando dice qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730 quindi a tanti di voi mi chiedete posso fare il 730 e poi fare l'RW a parte ti rispondo di sì perché non è che l'ho deciso io me lo dice l'agenzia delle entrate nelle istruzioni qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730 2021 il quadro rw per la parte relativa al monitoraggio deve essere presentato con le modalità nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio modello redditi persone fisiche 2021 e quindi entro il 30 novembre che significa che tu lavoratore dipendente presenti il 730 ti prendi le tue detrazioni ti prendi i tuoi sconti che ti verranno riaccreditati a luglio nella busta paga poi presenti separatamente il modello il quadro rw unitamente al frontespizio ok questo è quello che succede e questo è quello te lo confermo c'è scritto nelle istruzioni dichiarative a pagina 45 andiamo avanti andiamo avanti pagina 46 della dell'istruzione alla dichiarazione valorizzazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria per l'individuazione dei prodotti finanziari devono essere adottati gli stessi criteri validi a fini dell'ivafe pertanto il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione mi riconduco a quello che ho detto prima se io metto 10.000 su Kraken a gennaio e li levo a fine gennaio e sono sempre 10.000 metto 10.000 10.000 ecco un altro punto fondamentalissimo questo che l'ho detto questa settimana ho fatto 30 consulenze e a molti di voi ho detto guarda non fare un rigo rw per ogni wallet perché non hai la documentazione sufficiente per riuscire a dimostrare con chiarezza allora siccome siamo in un ambito di fixio iuris fai un rigo di rw sola dicendo il totale investito e il controvalore come fai a calcolare il controvalore prendi le quantità di monete che avevi vai a vedere i listini su investing o dove cavolo ti pare a te il valore medio di quel giorno e moltiplichi per le quantità così hai il valore iniziale e il valore finale vediamo che cosa dice l'istruzione a dichiarazione l'istruzione a dichiarazione dice in presenza di più operazioni della stessa natura il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati cioè dai medesimi codici di investimento e stato estero significa che lo puoi fare se il titolo è omogeneo o lo strumento o l'operazione della stessa natura vedete come il linguaggio è generico se hai fatto più operazioni della stessa natura quindi significa che hai una situazione come ho detto di più exchange magari spostato da una parte all'altra fai un rigo solo è lo stesso vedete come l'agenzia ti viene anche incontro qua dice guarda visto che hai fatto del casino fai un rigo solo basta che sia della stessa natura le monete virtuali sono tutte della stessa natura e mi metti c'è lo stesso codice di investimento per le monete virtuali al 14 altre attività però vediamo e c'è lo stesso stato estero sì perché per le monete virtuali non si mette lo stato estero ce lo dice e ora lo vediamo ecco in questo caso mi fai un rigo solo quindi quando vi dico a tanti di voi guarda visto il casino facciamo un rigo solo e così semplifichiamo e spende anche meno ecco di cosa stiamo parlando allora andiamo a vedere la compilazione del quadro chi ha scaricato il mio ebook che lo faccio rivedere chi ha scaricato il mio ebook che è questo quindi voi vedete nel mio ebook che c'è scritto colonna 1 colonna 2 non è che me lo sono inventato l'ho preso dall'istruzione e dalla dichiarazione unitamente a degli studi fatti su altri manuali io per realizzare CryptoTax ho utilizzato il manuale SEAC il momento fiscale l'istruzione e la dichiarazione li interpelli le sentenze ma chi ha acquistato CryptoTax vede in fondo c'è la bibliografia che ho scritto tutte le leggi che ho usato diciamo le fonti colonna 4 uno dei punti fondamentali codice stato estero e qui attenzione e colonna 3 codice individuazione bene il codice individuazione si mette il 14 altre attività estere di natura finanziaria ecco dov'è la natura altre attività estere di natura finanziaria ossia queste operazioni che hanno una natura estera che vanno indicate obbligatoriamente perché c'è scritto lì allora e mettiamo quindi il codice 14 colonna 4 attenzione attenzione cosa c'è scritto qui nella colonna 4 il codice dello stato estero rilevato nella tabella elenco paesi e territori esteri posto in appendice al fascicolo 1 punto e virgola tale codice io ve lo ingrandisco non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare valute virtuali così è deciso l'udienza è tolta e per gli amici di youtube ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie.